un saluto a tutti voi stiamo alla quarta evoluzione del kit luci ambient la cosa più bella è quando verrà il cliente e faremo questa dimostrazione porteremo giù la macchina garage il cliente si è rivolto a noi mi ha detto Stefano hai carta bianca mi fido di te mi fido di voi soprattutto e stupiscimi con questo kit ambiente ultima evoluzione come come al solito facciamo parlare a voi perché noi siamo di parte giudicate voi da queste immagini come vedete abbiamo fatto tutte le maniglie addirittura le tasche sportelli tunnel centrale tappetini un qualcosa di eccezionale adesso ci mettiamo a distanza e vediamo un pochino l'effetto che abbiamo volete sapere quanti kit ambiente abbiamo buttato circa una quindicina perché ovviamente bisogna testarli ci sono vari prodotti c'è chi li spaccia per super professionali l'abbiamo provati e buttati qual è il problema il problema è che non tutte le strisce fanno la stessa colorazione dopo circa 20 giorni si spengono e ne abbiamo dovuto fare veramente dei test ma soprattutto il grazie a voi perché senza di voi non potevamo fare nulla non potevamo fare investimenti adesso andiamo a vedere da dentro il risultato ok no stefano sono troppo accese le luci ambient sono troppo accese a me non piacciono a me piacciono un effetto soft super leggero ok non c'è problema andiamo a diminuire l'intensità le vuoi quasi spente e le seguiamo quasi spente ecco qua ovviamente immaginate che siamo al buio qui è quindi adesso li rimettiamo alla massima intensità io vi ringrazio e ci vediamo nel pomeriggio con altri video io vi ringrazio e ci vediamo nel pomeriggio con altri video